Perché gusto è il termine ricorrente, è un termine che rappresenta fortemente la nostra scuola, perché gusto non significa soltanto il piacere del cibo, il sapore, il senso del sapore, ma gusto significa capacità di cogliere e di apprezzare la bellezza. L'inclusività è la parola d'ordine del progetto della Casa del Gusto che vede protagonista l'Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara. Una stanza arredata come se fosse un monolocale completa di ogni elemento consentirà di ampliare l'offerta formativa rivolta ai ragazzi diversamente abili. È un luogo altamente inclusivo, perché i ragazzi all'interno della Casa avranno sempre il supporto sul piano emotivo e sul piano cognitivo dei loro tutor, che sono i compagni di classe. Quindi ci avverremo della strategia formativa del tutoring e della peer education. Proprio i ragazzi più fragili in questo periodo di pandemia stanno soffrendo maggiormente della didattica a distanza e del poco contatto con i propri compagni di classe. Specificamente i ragazzi fragili continuano a svolgere tutta una serie di attività formative che noi abbiamo predisposto negli anni, che sono le attività nell'orto e nel giardino didattico, oltre alle attività laboratoriali ordinarie, che sono il teatro inclusivo e che sono tante attività che noi definiamo di autonomia.